bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità sul futuro di fortnite vedremo alcuni aggiornamenti molto molto importanti sulla storyline ne abbiamo parlato anche nel video di ieri ma mancando pochi giorni oramai alla fine della season mesetto circa diciamo che le informazioni stanno arrivando ma ragazzi nel video di oggi vedremo anche degli aggiornamenti su travis scott volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul video delle 13 e 30 ma andremo a vedere anche ragazzi ovviamente nel video di oggi una bella sbadilata di leaks che vi terranno aggiornati sul dietro le quinte ma prima la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi dai l'avete già capita ma tu alla fine l'hai sciopazzato il nuovo pack del basha sens che vorrebbe dire carpa assassina se non ricordo male in italiano io l'ho preso bello a me piace mi piace un casino c'è pure il doppio stile mi piace tanto il pesce secco con gli occhiali da sole poi col discorso dei mille v bucks che ci vengono ridati completando le sfide quotidiane direi che ne vale davvero la pena quindi dimmi se l'hai scioppato qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande i bando alle ciance andiamo subito ragazzi a parlare un secondo del nuovo pack perché in realtà c'è qualcosa di un pochettino più interessante che va al di là del pack stesso forse non tutti l'hanno visto ma voglio condividere con voi il trailer proprio del pesce secco assassino oltre ad essere ragazzi veramente veramente meraviglioso c'è appunto il miascolo all'inizio che ci deve fare un attimo pensare perché miascolo come vedete innanzitutto è nella variante delle ombre tra l'altro sono uscite proprio ieri le sfide le ultime sfide che ci faranno appunto selezionare lo stile che vogliamo per questo agente ma la cosa molto interessante è che è stata completata anche la grotta tutta fatta ad ombre ora noi dobbiamo metterci in testa che molto probabilmente ci porteremo per tutto questo capitolo di fortnite le cinque location degli agenti che probabilmente continueranno nel corso appunto delle season successive a cambiare a modificarsi non sappiamo come ma sappiamo che è già tutto scritto quindi non ha senso che pensiamo che più gente della community sceglie un agente e più la location della gente diventa in base a quello che è stato scelto che cavolo di cosa non ho capito neanche io no è facile l'ho capita quindi ragazzi tanta tanta roba anche per questo miascolo che sicuramente a me personalmente piace tantissimo nella variante ombre lo sceglierò sicuramente e andiamo avanti nel prossimo argomento di oggi come ogni settimana ci arriva il nostro briefing per completare al meglio le sfide anche io sul canale ho caricato i video ovviamente che ci servivano quindi le posizioni delle cucce le location dove dobbiamo danzare devo dire che non erano assolutamente difficili e tra l'altro vi ricordo anche che oggi arriveranno le sfide di deadpool arriverà anche la skin andiamo avanti nel prossimo argomento perché qua la roba è veramente molto molto interessante e sto parlando degli aggiornamenti sulla storyline perché sono emerse delle cose notevoli e interessanti che vanno anche a riprendere delle skin vecchissime di fortnite facciamo un attimo il punto della situa ieri abbiamo detto che la cosa che ci è saltata all'occhio di mida e di oro è ad esempio la cicatrice sull'occhio destro che è praticamente identica questo ci fa appunto pensare che mida sia oro oro sia mida però se andiamo a dare un'occhiata anche alla descrizione delle delle skin leggiamo che oro fa parte del set la vendetta di mida mida's revenge mentre mida fa parte del golden ghost set quindi golden ghost ovviamente vuol dire fantasma d'oro ed è molto molto particolare capire come si evolverà il discorso mida oro io una cosa ve l'avevo già fatta vedere qualche giorno fa ovvero sia le modifiche che l'agenzia subirà non si sa quando sappiamo che anche nell'agenzia ci saranno delle varie fasi in cui gli elementi all'esterno si coloreranno d'oro i cornicioni la statua centrale molti profili ma non sappiamo ancora quando ma una cosa molto interessante qua chiedo anche il vostro aiuto è quella che vi sto per far vedere innanzitutto notiamo che la posizione che c'è tra mida e razzi in inglese ora io non ricordo questa è la skin che è uscita nel fortnight mers di ottobre dell'anno scorso come vedete la posizione è esattamente la stessa e se ci facciamo un attimo due conti in testa casualmente è proprio una skin che va un po a richiamare la mummia il fantasma l'aldilà un po come oro che è uno scheletro ma la cosa veramente incredibile ragazzi è questa il nostro caro e buon vecchio mietitore skin del pass battaglia della season 3 ha lo stesso identico segno sull'occhio destro di mida e di oro adesso io la domanda che vi faccio è che cavolo c'entra nel senso è una pura coincidenza cioè hanno utilizzato lo scheletro chiamolo come vuoi il design di questa skin poi poi farci su mida e oro oppure c'è qualcosa di connesso io sinceramente arrivò ad un punto cieco magari qualcuno di voi ha un'idea più intelligente devo escludere che secondo me hanno riciclato la skin no non avrebbe senso che gli avessero che gli avessero lasciato la cicatrice sull'occhio però è veramente incredibile aver notato anche questa cosa magari sarà un collegamento che ancora non sappiamo e prima di salutarci l'ultimo argomento di oggi ragazzi qualche ora fa travis scott riesce a fare un post su twitter con 192 mila like applausi a travis che fai like pubblicando semplicemente delle fiammelle sotto le fiammelle come vedete ci sono alcuni leakers famosi a livello mondiale che rispondono con le fiammette e giustamente la domanda è ma c'entra per caso qualcosa con fortnite beh non lo sappiamo ma abbiamo un paio di notizie interessanti la prima ragazzi riguarda il nostro caro ecchio donato mostarda donald mustard il capo di capoccione di tutto il team di epic games che inizia a followare travis scott su twitter già qua la cosa mi salta un pochettino all'orecchio ma poi abbiamo un'immagine che dovrebbe essere la più veritiera tra tutte quelle sparse per il web che ritrarrebbe la vera e propria skin di travis scott perché dico che è la più veritiera perché arriva da una fonte che non si sente spesso ma quelle poche volte che si fa sentire ci piglia sempre dovrebbe essere qualcuno proprio dentro il team di epic games che sai fa la foto col cellulare allo schermo fa trapelare qualche notizia insomma ragazzi travis in qualche modo arriverà molte notizie ce lo stanno confermando ci piace così non vediamo l'ora che arrivi e insomma il futuro di fortnite sebbene sia incerto è sicuramente molto molto interessante ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi il video delle news mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi in tantissimi ai miei canali io sono in live sulla piattaforma viola ciao 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 ciao